Nefertari è una delle regine più conosciute della storia egizia, insieme a Nefertiti, Cleopatra e Ashepsut. Disponiamo di poche testimonianze sulla vita di Nefertari, la cui fama si deve essenzialmente ai due grandiosi monumenti che le dedicò il marito, il faraone Ramses II. Si tratta di un piccolo tempio dedicato alla regina e alla dea Hathor, che si trova ad Abu Simbel e della sua splendida tomba situata nella Valle delle Regine, la QV66, ovvero la tomba numero 66 della Queen's Valley. Scoperta all'inizio del XX secolo dall'egittologo italiano Ernesto Schiaparelli, la tomba divenne subito celebre e la sua spettacolare decorazione iniziò ad apparire in tutti i libri di storia dell'arte. Nonostante i gravi danni causati dalle infiltrazioni dell'acqua, le grandi figure che popolano le sue pareti erano quasi intatte al momento della scoperta e conservavano la policromia originale che tanto affascinò i visitatori dell'epoca. La grandiosità e la magnificenza dei due monumenti sono state interpretate da molti storici come la dimostrazione dell'amore che Ramses II nutriva verso Nefertari. La tomba, che comprende diverse camere collegate da rampe e scale, costituisce uno dei massimi traguardi artistici della pittura egizia. La tomba di Nefertari presenta una pianta paragonabile a quella delle sepolture faraoniche del Nuovo Regno, un ipogeo scavato nel versante della montagna con una struttura interna formata da scale, corridoi e camere. Venne scoperta nel 1904 dall'egittologo italiano Ernesto Schiaparelli. Vi si accede da una scala discendente che porta a un'anticamera, che a sua volta conduce a un vestibolo e a una camera laterale, nota come la camera di Schiaparelli. Un variopinto ciclo pittorico decora le pareti dei tre ambienti e fa da preludio dell'esuberante programma iconografico delle altre camere della tomba. Una scala con una rampa centrale, con entrambe le pareti dipinte, conduce alla camera funeraria o del sarcofago, il cui soffitto è sostenuto da quattro pilastri. L'anticamera costituisce la prima sala della tomba di Nefertari e vi si accede attraverso una scala d'entrata di 18 gradini. Come nelle altre sale della tomba, il soffitto è di un blu intenso, punteggiato di stelle dorate a cinque punte. Le pareti dell'anticamera recano una ricca e variopinta decorazione pittorica. Sulla parete meridionale, quasi interamente occupata dall'apertura della scala d'accesso, sul lato est è raffigurata Nefertari, nell'atto di adorare Osiride Assiso, dietro il quale vi è Anupi in piedi. Sul lato ovest è rappresentata una scena divisa in tre registri. In quello inferiore, che ha la stessa altezza della banchina, vi sono due pilastri d'Aed e un nodo Tiet, o nodo di Iside, un amuleto connesso con il sangue. In quello superiore vi è la famosa scena della regina che gioca al Senet, seguita dalla rappresentazione di Nefertari come Uccello Ba. Proseguendo, si osserva ancora la regina, inginocchiata, che adora il dio leone Acheru. Infine, nel registro centrale, vi sono i geroglifici corrispondenti al capitolo 17 del Libro dei Morti, che narra la rinascita del defunto nell'aldilà. Sull'architrave della porta, che conduce alla camera funeraria, sono rappresentati quattro figli di oro rivolti verso est, preceduti dall'immagine dello stesso oro, riconoscibile dalla tipica testa di falco. Dalla parete est dell'anticamera si accede al vestibolo dell'annesso laterale. Nella parete orientale del vestibolo si apre un breve corridoio di un metro circa di larghezza, che immette nell'annesso laterale. La decorazione delle dieci pareti del vestibolo è legata alle divinità del ciclo eliopolitano e conduce la regina fino alla camera laterale, il primo annesso della tomba. Il primo annesso della tomba è un ambiente rettangolare, sulle cui pareti è raffigurata la continuazione del viaggio della regina, iniziato sulla parete est dell'anticamera. Nonostante le dimensioni ridotte, la decorazione della sala ha un grande valore simbolico e completa il programma iconografico della camera funeraria. La parete ovest ospita una scena simbolica che vede le dee Iside e Nefti sostenere una figura dal corpo mummiforme, con la testa verde in forma di ariete e coronata da un disco solare. Si tratta di Osiride che riposa in Ra e Ra che riposa in Osiride, una sintesi della teologia ramesside. Una linea verticale gialla separa questa scena da quella successiva, Nefertari in piedi che si rivolge in adorazione verso una parete meridionale dell'annesso. La seconda scala della tomba di Nefertari discende per circa tre metri. L'elemento che caratterizza il programma iconografico di questa parete del sepolcro è che le scene si dispongono simmetricamente sulle due pareti laterali che differiscono tra loro solo per gli attributi delle dee. La decorazione del trapezio che forma il primo tratto di scale mostra tutta l'abilità degli artigiani che la realizzarono perché le figure si adattano perfettamente all'altezza discendente della parete in modo armonioso e naturale. Sulla parete ovest vediamo la regina che offre due bicchieri di vino di forma globulare e una tavola colma di offerte alle dee Iside e Nefti assise in trono. Dietro di loro si trova Maat che dispiega le sue ali. La stessa composizione si ripete sul lato est della scala con le dee Ator e Selket sedute sul trono. L'architrave della porta di accesso alla camera funeraria è decorata con una spettacolare immagine della dea Maat inginocchiata e con le ali spiegate, mentre gli stipiti recano l'immagine della dea in piedi essenziali ma con la caratteristica piuma sul capo. Alla camera funeraria di Nefertari si accede attraverso due porte. Gli stipiti della prima ospitano entrambi un'immagine della dea Maat. La seconda porta è decorata da una figura della dea cobra Necbet, protettrice dell'Alto Egitto, a sinistra, e da una della dea cobra Ouaget, protettrice del Basso Egitto, a destra. All'interno della camera funeraria una banchina continua intagliata nella pietra corre lungo tutto il perimetro della sala. L'importanza della camera funeraria è sottolineata anche dalla presenza delle piccole nicchie che contengono i quattro mattoni magici che proteggono Osiride dai suoi nemici, ognuno dei quali rega scritto un frammento del capitolo 151 del Libro dei Morti ed è associato ad un amuleto protettore. La camera funeraria delle tombe egizie solitamente era orientata ad ovest, ma questo non era sempre possibile, come nel caso della sala del sarcofago di Nefertari, che è rivolta a nord. Per questa ragione su ognuno dei quattro mattoni è indicato un punto cardinale, che riorienta tutta la sala, situando correttamente le quattro pareti. Chiamata dalle Egizie il luogo della bellezza, la necropoli tebana, oggi conosciuta come la valle delle regine, accoglie quella che è forse la tumba più bella che sia stata mai scoperta nel paese delle due terre, il sepolcro della regina Nefertari. Il fortunato ritrovamento si deve all'italiano Ernesto Schiaparelli e alla sua squadra che nel 1904 entrarono per la prima volta nella cappella sistina dell'arte funeraria egizia, la tomba di Nefertari, colei per la quale sorge sempre il sole. Grazie 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 Grazie.